Ciao ragazze, ciao ragazzi, prodotti sì, prodotti no. Allora, inizio con i prodotti sì, sì per questo smalto qui di Sally Hansen, io non l'ho mai sentita, l'ho conosciuta perché è la mia amica, l'ha comprato per lei, però non gli è piaciuto il colore e mi ha detto guarda tu che metti questi colori smorti sicuramente ti piace e infatti a me piace molto, è quello che sto indossando, per me è bellissimo, è il numero 331, un bellissimo pennello largo, piatto e vi assicuro che vi basta una passata per avere un colore pieno e inoltre dura veramente tanto, io l'ho anche lasciato una settimana, considerate che sono in ferie e tutti i lavori in casa che faccio li faccio senza guanti, quindi ho usato acqua dura, dura, dura parecchio, mi è piaciuto. Un altro sì è questo siero di Estée Lauder che si chiama Advanced Night Repair Eye Serum, questo qui è un siero, c'è la sua pompettina, ne basta veramente poco e lo si dà al di sotto dell'abituale contorno occhi, è idrata molto, è fatto per la zona del contorno occhi secca, molto secca, ovviamente ha un'azione anche anti-età, idrata molto, poi sopra date il vostro contorno occhi, per me è veramente un prodotto promosso, buono, buono. Poi, dove vado qua? Promossa è questa cipria traslucida correttiva di Givenchy, potete vedere i colori, davvero impalpabile, trasparente e perché l'ho dovuta comprare? Adesso andiamo agli altri prodotti, ottima, è veramente ottima. L'ho dovuta comprare perché io usavo molto volentieri le perle dell'Avon, le correttive illuminanti, il problema è che un po' me ne sono cadute nel lavandino, un po' sono finite sotto la lavatrice, un po' sotto il mobile, perché un po' mi rimanevano incastrate nel pennello. Io facevo cadere nel barattolo, ma a qualcuna mentre facevo così volava di qua e di là. Ne ho raccolte, le ho raccolte quelle che potevo, però non mi sembra più igienico usarle. È veramente un buon prodotto, io non boccio il prodotto, boccio la tipologia. Diciamo che non avevo mai comprato le perle, ora so che non fanno per me perché sono un po' cionpa e quindi lascio stare le perline perché quelle che sono riuscite a recuperare le ho rimesse qua dentro, ma mi erano finite nel lavandino, un po' per terra, non è igienico, non è igienico. Stop, le lascio lì. Questa è Benecos Natural Eye Gliding Power. Io questa qui il più delle volte l'ho usata come sulla palpebra per asciugare dopo il primer perché in viso vi appare la pelle in carta pecorita. Se voi vi mettete di lato così in controluce, con la luce, sembra che avete una peluria inverosimile, un borotalco, è una cosa oscena, per di più brilla di rosa. Stardust. Delusione delle delusioni. Dior Show Black Haut. Questo è un bellissimo mascara, molto nero, infoltisce tantissimo le ciglia, una favola. Il problema è che non asciuga. Il problema è subentrato quando è arrivato il caldo e il mascara non asciuga, si stampa qua sopra e qui sotto. Probabilmente verso ottobre e novembre spero abbia un altro risultato, però questo mi ha toccato un po' il cuore sia per il prezzo, per la fama. No, lo devo bocciare. Come boccio? Ma boccio? Questa crema di filorga. Ciao, scusate, sto facendo un video. Questa crema di filorga che costa un botto, perché costa un botto, è quella nera Skin Absolute da notte. Io sto cercando di finire alla veloce. Alla sera, quando la do, a me piace fare anche un massaggio, sapete quei massaggi per i muscoli del viso, per coccolarmi un po', mi massaggio. Non si può con questa crema, nel senso che dopo un po' che massaggiate, la crema fregando si solidifica e fa tutta quella polverina, quella pastina, che poi voi dovete fare così per levarla. È veramente bocciata questa crema qua. Che cara, nominata, ma bocciata, bocciata. Ahimè, questo primer Eden di Urban Decay, sì, Urban Decay, è bellissimo, perché toglie ogni discromia della palpebra superiore, però appena lo appoggio mi brucia la pelle. Dopo qualche secondo passa, ma se l'avete anche voi, se mi dite se ve lo fa anche a voi... Poi, questo deodorante qua, natura mica, deovapo, allume di rocca, profumazione talco. Non ha profumazione di talco, ma iris dell'erbolario, ma non è quello il problema. Appena lo spruzzate, è buonissimo, perché sa di fiori, sa di iris dell'erbolario, ma dopo un anno secondo vi fa puzzare. È questo che vi fa puzzare, non siete voi, perché neanche fate movimento e la maglietta poi puzza di sudore. Io non so cosa farne, perché a me dispiace sprecare la roba, ma non so veramente cosa farne di questo. Poi, boccio questa matita di neve, la pastello e la ballerina. Perché la boccio? Perché innanzitutto io quando me la do sembro una morta, perché io la swatcho sulla mano. A voi sembra un bel colore, anche a me sembra un bel colore. Il problema è che sulle mie labbra diventa chiarissima. E per di più puzza, cioè ha un odore pessimo, pessimo. Cioè, anche di un altro colore. Io una matita così, sulle labbra, che è vicina al naso, mi dà fastidio. Puzza, puzza. Se anche voi avete una matita di neve di questo tipo qua, ditemi se anche le vostre puzzano, perché se no è la mia che è andata male. Ma non è tanto che ce l'ho. Io ho finito, vi ho un po' aggiornato. Se dovete comprare alcuni di questi prodotti, sapete più o meno, dal mio punto di vista, come li vedo. Vi mando un grosso bacio. Ciao!